Ma cosa volete che vi dica? Tutte le settimane mi fate sempre le solite domande. Che cosa devo dirvi? Tutte le mattine metto delle borse col ghiaccio sulla testa dei miei giocatori per 5 minuti, prima di cedere in campo e poi pensiamo soltanto a giocare a calcio. Ancora non conosco bene i dettagli dell'infortunio di Gurkouf, so che mancherà a minimo 6 settimane e massimo 3 mesi. Ora c'è lo staff medico che si sta prendendo cura di lui e io mi fido di loro. Gurkouf è stato un giocatore molto importante all'inizio della stagione. A livello di statistiche si era fatto sentire a suon di assist e di gol. Poi era importante per la sua posizione perché sapeva fare d'accollante tra la difesa e l'attacco. Poi per il volume di gioco espresso e anche per la sua fantasia. Anche se credo avesse ancora grandi margini di miglioramento, soprattutto davanti alla porta. Ora cercheremo di sopperire alla sua mancanza, ma manterremo comunque lo stesso schema di gioco. Per fortuna ho anche altre possibilità a disposizione. Questo primo posto ancora non significa molto perché siamo ancora lontani dalla fine del campionato. Ma siamo riusciti comunque a fare 6 punti nelle prime due partite. E questo ci ha dato molta fiducia. E soprattutto voglia di rimanere in testa il più a lungo possibile. Più resteremo là davanti e più questo primo posto avrà un significato. E più ne vogliono dire all'ora di significato.